Ciao a tutti, anche questo video in collaborazione con la Marco Bindi Liveband, io sono Berta Pilava e andremo a creare insieme dei nuovi tutorial dedicati alle fustelle. In particolar modo questo gruppo di tutorial riguarderanno appunto le fustelle delle scatole. Guardiamola prima, come sempre dovete fare due pezzi di ogni fustella di scatola. Ecco, questa è la prima, è la fustella metallica che vedete comunemente, io ho già fustellato due pezzetti. Eccomi qui e andiamo a piegare i bordini, eccomi qui. Allora ragazzi se vi fa piacere lasciatevi un mi piace e iscrivetevi al mio canale per poter vedere gli altri video. Ringrazio tutti come sempre per l'affetto dimostrato. Ok, incolliamo un lato, si vede, non si vede, eccomi qui, qui e incolliamo l'altro lato. Eccoci. Allora ragazzi ho pensato di fare questo gruppo di tutorial perché molto spesso guardando le foto delle fustelle non riusciamo a capire uno la grandezza e due se è ciò che cerchiamo oppure quando abbiamo la fustella in mano come assemblarla. Scusate se è scollato, aspettate che l'incollo. Eccomi qui. Ok. Vedete? Questa qui è già pronta. Apriamo. E pieghiamo i due versi. Uno. E due. Ripeto, saranno dei video molto brevi, proprio che riguarderanno le fustelle, in questo momento sono quelle metalliche, poi passiamo anche a quelle più complesse. Ma quelle che sono alcune delle più utili sono proprio le scatoline. Quindi ho pensato di partire proprio dalle scatole. Eccole qui. Eccola. Ora non fate caso che il cartoncino era un po' rovinato, ma era giusto per perdere le prove. Eccola qui. Ricordo la fustella è questa. Cosa che vedete comunemente. Se ne avete bisogno potete contattarmi su Berta Fidava, la riconoscete dai gomiti. E come sempre qui sotto troverete tutti i contatti. Ciao a tutti e alla prossima. Un bacione. Grazie. 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 Grazie.